Era partito per Modena lunedì mattina una trasferta lavorativa di due giorni per effettuare un sopralluogo su un capannone, rilievi tecnici per un progetto di riqualificazione dello stabile, in passato sede di un'importante azienda di logistica e d'ora in disuso. Gaetano Ruiz de Ballesteros, geometra gualdese di 44 anni, ha perso la vita cadendo da circa 6 metri di altezza. Parte del tetto sul quale era salito è crollata. Inutili i soccorsi, subito allertati dai colleghi, il 44enne è morto sul colpo. La salma è ora a disposizione della procura di Modena, che ha aperto un fascicolo sull'incidente e sequestrato l'area. L'indagine è affidata alla polizia e agli ispettori della Ausl di Modena, che dovranno fare piena luce sulla caduta fatale e sul rispetto delle norme di sicurezza per il lavoro in altezza. Gaetano Ruiz de Ballesteros, a Gualdo Tadino, lascia la compagna Valeria, geologa e una figlia di tre anni. collaborava anche con lo studio tecnico del suocero, geometra molto conosciuto in città, appassionato di musica, suonava il basso. Per anni è stato fromboliere della porta di San Facondino e anche i due fratelli e la sorella sono portaioli. Tutta Gualdo Tadino si è stretta al dolore della famiglia che attendeva il rientro di Gaetano dall'Emilia Romagna e ora invece piange una delle tre vittime sul lavoro registrate soltanto ieri in Italia.